Ciao a tutti, oggi realizzeremo questa zattera per far giocare e divertire i bambini. Ci serviranno il foam di due colori, tre tappi di sughero, un bastoncino per gli spiedini, una forbice, la colla a caldo e il modello per fare la vela e la bandierina. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!